Ciao, questo è un periodo particolare. Siamo non più nei primissimi giorni di scuola, ma non siamo neanche ancora entrati nel vivo. Proprio per questo voglio presentarti un'attività che tu potrai proporre proprio in questi giorni e che potremmo definire Medium. Perché parlo di Medium? Perché nei primissimi giorni di scuola, se hai seguito i video già pubblicati da Meta Didattica, sai che il mio suggerimento è stato quello di trattare dei temi soft, quindi dei temi trasversali. Esplorare con i ragazzi attraverso delle attività e delle proposte le loro aspettative rispetto all'anno, degli obiettivi che magari si possono porre oppure delle regole da creare insieme per vivere al meglio i giorni a venire. Andando avanti con l'anno invece, entrando quindi proprio nel vivo e nel merito della tua materia, tratterete argomenti hard, cioè argomenti tecnici strettamente legati quindi agli argomenti che potrebbero proporre loro. Questa fase quindi di medio termine, questo terreno di mezzo, potrebbe essere facilitato da un'attività che voglio proporti. L'idea e l'obiettivo di questa attività è creare una sorta di rampa, di scivolo, che accompagni in maniera graduale i ragazzi verso gli argomenti che vorrei proporre loro. Quindi potrai scegliere di utilizzare questa attività sia per introdurre un nuovo argomento, una nuova unità didattica, oppure per introdurre la tua materia, se ovviamente i ragazzi ancora non la conoscono. Cosa fare quindi? Beh, immagina di allocare 20-30 minuti all'attività in totale, quindi è così che la immagino, e di suddividere questa attività in due fasi principali. La prima fase è quella in cui chiedi ai ragazzi di trovare, dal loro punto di vista, degli aspetti della tua materia o dell'argomento, a seconda di qual è il focus della tua attività, che loro potrebbero riscontrare quotidianamente o quasi nella vita di tutti i giorni. Se mi occupassi di biologia sarebbe facile ovviamente trovare diversi spunti, stessa cosa per matematica, italiano, lingue straniere, educazione artistica, storia, geografia. Quindi di spunti ce ne sono davvero un bel po'. E qui la cosa che ti consiglio di fare è di arrivare in classe per questa attività già tu con le idee chiare rispetto a quali sono 4-5 aspetti della tua materia che è facile riscontrare nelle realtà di tutti i giorni. Questo perché se all'inizio i ragazzi fossero un pochino titubanti nel trovarne alcuni potresti dar loro una mano e quindi accendere un pochino il dibattito. Io lo farei durare una decina di minuti, un quarto d'ora massimo, non di più, non tirerei troppo la corda perché questa è proprio una fase di riscaldamento. Nella seconda fase quello che farei è consegnare a ciascun ragazzo due post-it, volendo poi far lavorare i ragazzi anche non individualmente ma a gruppetti da due o tre, ma comunque gruppetti abbastanza ristretti. In questi due post-it io suggerirei di scrivere sull'uno due aspetti che dal suo o dal loro punto di vista rendono l'argomento o la materia interessante e sull'altro quali sono due aspetti che la rendono invece non interessante. Una volta dedicati 5 minuti, sì 5 minuti direi che possano essere sufficienti, a scrivere due spunti da una parte e due spunti dall'altra, prenderei i post-it o chiederei loro di affiggerli su una parete, su una finestra, sulla lavagna, in modo da avere sulla sinistra tutti gli spunti che dal loro punto di vista destano o desterebbero interesse e dall'altro invece ciò che al contrario potrebbe renderli poco interessati. Ecco che quindi tratteremo per la prima volta qualcosa di medium, quindi legandolo alla tua materia o all'argomento comunque catturerai, collezionerai degli aspetti motivazionali, chiamiamoli così. Quindi avrei modo di scoprire insieme ai ragazzi e grazie ai ragazzi, grazie a questa attività, quali potrebbero essere o quali sono quegli spunti che magari potresti introdurre un po' di più nella tua materia, nella trattazione degli argomenti e quali magari alleggerire un pochino perché la renderebbero dal loro punto di vista poco interessanti. Inoltre quello rappresenterebbe una sorta di patto d'aula, rinegoziabile, quindi ogni tanto potresti chiedere loro se hanno piacere di cambiare un po' la ricetta, ma a quel punto diventa un bel accordo, quindi diventa anche un'attribuzione di responsabilità della serie. Non è solo l'insegnante che deve fare il clown o fare il circo davanti a te per rendere interessante, renderti interessante l'argomento, ma in qualche modo ti sei assunto la responsabilità di individuare o di riflettere quali sono gli aspetti che la renderebbero tale. Quindi ti chiedo di sperimentare, di farmi sapere come andrà, di commentare questo video, di dirmi la tua perché questo è il vero prezioso valore di Meta Didattica, collezionare i vostri spunti, i tuoi spunti e fare in modo che possano essere il più possibile condivisi da tutti gli altri colleghi. Ti ringrazio per l'ascolto perché me ne dai tanto e questo mi fa davvero tanto piacere e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!